Quando passiamo all'esportazione dei nostri lavori abbiamo di norma diverse tipologie di file che vogliamo esportare ed ora vi mostrerò quello che è il mio processo che io attualmente utilizzo quando devo esportare un file master. Il file master è il file alla massima qualità disponibile possibile da poter mettere in archivio o utilizzare poi per essere ricodificato in qualche altra tipologia di file. Essendo su Mac io utilizzerò un file con un contenitore .mov mentre chi è su Windows potrà utilizzare un contenitore di tipo Avid e quella che utilizzerò è la codifica di Apple ProRes. Mentre un altro consiglio che posso dare a chi lavora su Windows è di utilizzare i codec DNX di Avid. Se non li trovate disponibili all'interno del vostro software potete scaricare i codec DNX. Diciamo che sono degli equivalenti del ProRes dedicati a Avid. Quindi vi mostro almeno quello che è il mio processo nell'esportazione di un file master. Io sceglierò un formato QuickTime. Andrò a scegliere un predefinito. Di norma scelgo sempre l'Apple ProRes 422 HQ. Naturalmente non vado a settare in questo momento dove salverò il file. Vado nelle impostazioni del video ed essendo tutto alla massima qualità disponibile naturalmente in automatico Adobe Premiere Pro troverà quella che è l'impostazione della mia timeline. Quindi sai che è un 1920x1080 che è 25 fotogrammi al secondo. Qua posso scegliere la profondità in bit della mia esportazione. Nel mio caso normalmente utilizzo gli 8 bit perché sono tutte esportazioni televisive. o per il web, quindi soltanto i master di film che andranno al cinema o su piattaforme on demand vanno esportate con un bitrate più alto. Ma di norma io utilizzo la profondità di 8 bit. E basta perché non c'è null'altro da impostare. Semplicemente perché utilizzo il preset dell'Apple ProRes 422 HQ che è quello più alto in questo momento che ho a disposizione. In alternativa, quando ho bisogno di una qualità molto più alta posso scegliere l'Apple ProRes 444 che è molto paragonabile a un codec lossless, ossia senza perdita. Infatti genererà un file molto ma molto pesante perché il tipo di compressione è molto più alto. Infatti è possibile anche scegliere con questa tipologia di preset di esportare anche il canale alfa quindi non soltanto il canale rosso, verde e blu ma anche il canale alfa. Quindi io normalmente utilizzo il ProRes 422 e in audio semplicemente questo codec permette l'esportazione di un codec audio non compresso quindi è esattamente quello di cui io necessito ed esporto il mio file. Questa è la metodologia con cui io esporto un file master.